buongiorno ragazzi bella tutti bentornati sul nostro canale dal vostro amico gaming che come sempre torna a tenervi aggiornati la mattina presto sulle ultime notizie riguardo il coronavirus in italia e nel mondo allora cominciamo con le nuove notizie poi vi aggiorneremo sugli ultimi dati allora c'è tensione tra il governo e la regione lombardia sulla ripartenza a partire da maggio infatti la lombardia chiede al governo di dare il via libera alle attività produttive dal 4 maggio nel rispetto di quattro condizioni di sicurezza un errore però per il vice ministro al mese stefano buffagni che ha detto andare in ordine sparso sostiene rischia di alimentare confusione nei cittadini e nelle imprese ma fontana chiarisce non parliamo di attività produttive ma delle attività ordinarie e l'assessore al welfare gallera ha detto disgustato dallo sciacallaggio politico per le ultime notizie del mondo von der leyen ha detto l'unione europea chiede scusa all'italia ora però c'è staremo a vedere la ministra bonetti a sky 324 ha detto riaprire i pacchi ai bambini a turno intanto il mes divide l'esecutivo conte media valutiamo alla fine intanto negli usa oltre 28 mila morti trump ha detto che il contagio frena in arrivo linee guida sulla ripartenza infatti l'intelligence usa indaga sull'ipotesi del virus nato il laboratorio a wuhan poi per quanto riguarda i dati aggiornati al 14 di aprile dunque in italia dall'inizio dell'epidemia di coronavirus almeno 162 488 persone hanno contratto il virus 2972 in più rispetto a ieri quando erano saliti di 3153 unità infatti la crescita oggi è dell'1,9 per cento di queste 21.067 sono decedute ovvero sono più 602 più 602 ovvero il 2,9 per cento ieri erano stati 566 e 37.130 sono stati dimesse ovvero sono più 1695 ovvero il 4,8 per cento in più attualmente soggetti positivi dei quali sia certezza sono 104.291 infatti il conto sale a 162.488 come detto sopra se nel computo ci sono anche i morti e i guariti conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall'inizio dell'epidemia ovviamente i dati sono forniti questi dalla protezione civile perché comunque li potete trovare anche online sul sito della protezione civile i pazienti ricoverati con sintomi sono 28.011 ovvero 3.186 sono in terapia intensiva infatti ieri la diminuzione era stata di 83 posti letto e questo è un dato molto importante mentre 73.094 sono in isolamento domiciliare fiduciario e per il momento questi sono i dati aggiornati a oggi 16 aprile per quanto riguarda il coronavirus in Italia e nel mondo per il momento mi fermo qui ragazzi e come sempre lasciate un like e naturalmente continuate a mandare il vostro supporto continuando a seguirci iscrivendovi al canale a presto ragazzi per un nuovo video un abbraccio e ciao a tutti Grazie